Buongiorno, da Giuseppe Recca oggi è giovedì 4 aprile. Il Governo regionale ha chiesto lo stato di emergenza per la crisi idrica, una decisione presa nel corso dell'ultima giunta in conseguenza del lungo periodo di siccità e della rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta l'isola. L'obiettivo del provvedimento che adesso dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico. Convocata per oggi alle ore 15, nell'aula e giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l'Assemblea dei Sindaci dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini, sul tavolo la severità idrica che interessa anche l'intero territorio agrigentino dove da qualche giorno si stanno verificando i primi seri disagi con la riduzione dell'acqua attraverso il piano di razionamento regionale. All'Assemblea è stato invitato anche il prefetto Filippo Romano. Nomina procuratore capo della Repubblica di Gela per il magistrato Salvatore Vella. A proporre la nomina era stata all'unanimità la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Vella l'ha spuntata su una lista di sei aspiranti per la copertura del posto. Tragedia stradale. Ieri sera a Marsala un uomo che viaggiava su uno scooter è morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L'impatto è avvenuto sulla statale 115 per Trapani. La vittima è Marco Abate, 37 anni, che lascia la moglie in attesa di un bimbo e un figlio di sei anni. Lo scooter è andato a sbattere frontalmente contro un'auto. Sostituiscono i codici a barra e pagano molto meno 30 uova di Pasqua. Due palermitani di 28 e 19 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Agrigento. L'ipotesi di reato è truffa in concorso. I militari hanno raccolto la denuncia querela del responsabile del supermercato Conad del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento. Un piano straordinario di sterilizzazione dei cani e gatti padronali da attuare entro il 31 dicembre di quest'anno. Lo ha predisposto il comune di Sciacca, che ha pubblicato sul sito internet l'avviso rivolto ai cittadini per la individuazione delle richieste e per la individuazione dei beneficiari. Il bando è rivolto a possessori di cani e gatti riconducibili a fasce sociali deboli. Nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Menfi, convocata per il 22 aprile, c'è anche la delibera che deve certificare il dissesto finanziario dell'ente. Il consultivo 2022 aveva fatto emergere chiaramente un quadro economico difficile, con un disavanzo di 14 milioni di euro, scaturiti in gran parte dalla mancata riscossione dei tributi. Domenica prossima, 7 aprile, durante la Santa Messa dalle ore 11, presso la parrocchia del Carmine verrà inaugurato, è benedetto, il pulmino solidale per il trasporto dei malati oncologici. Il mezzo è stato affidato ufficialmente all'Associazione Solide Ali di San Giovanni Gemini e Camerata, che a sua volta lo ha messo a disposizione della Caritas parrocchiale del Carmine. Il servizio navetta partirà a giugno e consisterà nel trasporto delle persone affette da malattie tumorali presso il reparto oncologia dell'ospedale di Agrigento. È tutto, grazie, buona giornata, più tardi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.